La transumanza è il patrimonio dell'UNESCO perché ci siamo resi conto, dopo 15 anni di lavoro e di studi sui territori, che questo fenomeno, oltre a segnare questa migrazione di animali e di persone, ha creato queste enormi strade che sono diventate prima le strade dei pastori, i romani le hanno unite, sono diventate le consolari e poi le varie civiltà con il tempo le hanno attraversate per uno spostamento culturale, infatti chiamiamo la transumanza ormai piattaforma culturale dinamica, sulla quale si sono avvicendate storie, guerre, cambiamenti di civiltà, spostamenti di tradizioni, scambi culturali, matrimoni, scambi commerciali e quindi ecco perché il patrimonio dell'umanità conserva un passato fatto di tanti elementi.